Allora, eccoci qua. Buongiorno, benvenuti a questa zuppa del 21 marzo. Vediamo bene di mettere a posto tutte quante le telecamere. Saluto gli amici di Facebook, gli amici di Youtube, gli amici del sito nicolaporro.it, insomma tutti quelli che ci stanno vedendo in questo momento. Bando alle ciance perché oggi sui giornali c'è un sacco di roba e vorrei cercare di raccontarvele il prima possibile. Intanto ogni giorno che passa più penso di essere un marziano totale perché se leggo i giornali di oggi vedo tutti dal mio giornale, il giornale, al fatto quotidiano, al Corriere della Repubblica, un'idea precisa. E l'idea precisa è quella che sta funzionando il modello italiano. Cioè da una parte mettono l'idea che ci sono morti, come ci sono, record, contagi record. E dall'altra ci spiegano che il modello italiano sta funzionando. C'è qualche cosa che non funziona nella testa, secondo me, di tutti quanti noi. E poi lo vedo, i miei amici che hanno trovato finalmente i cattivi. Tutti i miei amici, io sono un marziano, tutti i miei amici quando vedono uno che corre dice Eccolo! È lui che ci sta contagiando! E' lui quello che corre e è diventato l'untore. Attenzione, ma ve lo dico, vi prego, ascoltatemi con serenità. Se noi pensiamo che quello che va in bicicletta e quello che fa la corsettina, può anche vi starvi antipatico perché voi state a casa e lui invece riesce a farsi la corsettina, è il motivo per il quale ci sono i morti? State trovando e state mettendo la gogna al posto sbagliato. Ma andiamo subito sui titoli. Più morti, scontri sui divieti. Tant'è che su questa cosa dei divieti che le regioni del nord vogliono maggiori e che Conte non vuole, grazie al cielo, in questo rendere così duri, beh, insomma, su questa roba qua il giornale di Sallusti dice Conte Tentenna. Nel frattempo però vai a vedere che uno dei motivi sui quali ha tentennato, e lo spiega una dichiarazione dell'assessore Gallera, sapete qual è? La chiusura, il weekend degli alimentari e dei supermercati. Allora, uno che pensa di chiudere i supermercati alimentari è un cerebro leso, è un cerebro... Villarosa, non sto parlando di te, eh? Villarosa, giuro che non sto parlando di te, perché quello si sente ogni volta, no? Il sottosegretario dell'economia, quando si fa una critica, pensa che sia sempre lui. Non è lui quello che sto pensando. Sto genericamente dicendo che se tu vuoi evitare gli assembramenti e vuoi rendere questo paese civile, doti le persone che sono nei supermercati di mascherina, questo farebbe un paese civile, e non ti preoccupi del fatto che debbano chiudere prima, perché in quella maniera, se chiudono prima, è del tutto evidente che ci sono file assembramenti. E l'assessore Gallera lo dice. Non rispingiamo gli oriari di chiusura ristretti. Ma è del tutto evidente, no? Se tu riduci le corse della metropolitana, ci saranno più persone in quelle corse della metropolitana. E non è che ci vuole molto a ragionare sull'eterogenesi dei fini. Ma non basta. Perché ci sono tutte le foto delle file, vabbè, ma perché c'è la distanza, eccetera. Ma voglio andare via. In questo mondo alla rovescia, io vi segnalo, lo vedete sui social e lo vedete sui giornali, la foto della Marchesa del Grillo, che è la Raggi. La Raggi dice a voi, cioè a me, e a tutti noi, state a casa. Lei da dove fa questa foto? Da un parco con un bel sole che lei ha chiuso. Allora, vi sembra che io sia un tossicodipendente? O che il sindaco di Roma, quando dice state a casa, e lo fa non dei suoi 40 metri quadri, dove siamo confinati negli ultimi 14 giorni, ma da un parco in cui lei, anche se per fare quello spot ci può andare, non vi sembra una roba pazzesca che lei faccia lo spot dal parco che lei ha chiuso? Io ve lo chiedo, perché questa è la vita. Io so io e voi non siete nessuno, no? Che tipica di Roma. Ma poi leggo Giuliano Ferrara, un pezzo straordinario di Giuliano Ferrara, che è quello che noi stiamo subendo, non si chiama arresti domiciliari volontari, derivanti dal fatto che c'è un'emergenza. No, perché noi non diamo le parole giuste a quello che sta avvenendo, perché siamo tutti gli arresti domiciliari. Questa è la parola giusta. Giuliano Ferrara oggi fa il titolo, il pezzo del foglio, sopra dicendo, beh, toglietemi tutto, ma non la possibilità di andare a far fare la pipì al cane. Allora, allora, allora mi dovete spiegare una cosa. Cioè, l'uomo vale meno del cane. Cioè, quello che va a fare il runner è un delinquente. Mentre invece, se Giuliano Ferrara ha il suo bassottino che gli vuole far fare la pipì, magari non sulla pianta sotto casa sua, ma un po' più lontana, beh, allora invece lo copriamo, perché questa è la vita nostra, no? La vita che è il cane vale più dell'essere umano. Va benissimo, va benissimo. Ma vado avanti, vado avanti, perché ce ne sono una dietro l'altra oggi. Io le trovo straordinarie. Borrelli se la prende e dice basta con le fake news, che in realtà le fake news di cui parlava ieri era il fatto che si chiudesse ancora un po' di più l'Italia. E su queste fake news ci vogliono le sanzioni! E quindi, finalmente, l'uomo della protezione civile si accorge che siamo circondati di minchiate e che ci hanno raccontato negli ultimi anni sulle cure e sul coso. Ringrazio Borrelli che se ne è finalmente accorto. Poi, voglio segnalarvi che cosa c'è a pagina 6 sul Corriere della Sera. Pagina 6. Pagina 1 c'è record di morti. Pagina 1 c'è record di contagi. Pagina 1 c'è dobbiamo chiudere completamente tutte le città. Benissimo, io rispetto le leggi e dovete rispettarle anche voi. Sia chiaro, nessuno di noi vuole non rispettare le leggi, ma vogliamo urlare probabilmente qualche idea se c'è ancora consentito. Pagina 6 di Corriere della Sera è piccolo così, sono otto righe, le ho contate, e ci dice che l'Istituto Superiore della Sanità ha calcolato che i morti che non avevano altre patologie, cioè i morti di coronavirus che non avevano altre patologie, ve lo dico esattamente, il numero è l'1,2% di questi famosi 3.000 morti che abbiamo, più di 3.000 morti che abbiamo. Quindi l'1,2%. Allora, posto che oggi c'è un'intervista al primario di Bergamo che ci racconta il disastro che c'è lì, posto che c'è un disastro negli ospedali bisogna far sì che questi ospedali gli si devono dare tutte le mani di questi possibili. Però, nel momento in cui stiamo distruggendo le libertà di questo paese, stiamo drammatizzando tutto, perché quello che dice l'Istituto Superiore della Sanità lo ririchiamo a pagina 6 con 1,2%, perché non diamo anche un messaggio? Ragazzi, dovete stare a casa, rispettare le leggi, non uscire di casa, ma sappiate che se avete 50 anni e non avete altre patologie, il mio caso, avete 40 anni e non avete altre patologie, beh, la possibilità che voi moriate per coronavirus sono bassissime. Perché questo non lo diciamo? Non lo diciamo e ve lo dico perché? Perché oggi io mi imbatto in un pezzo straordinario della Repubblica. Io vi invito tutti a leggere il pezzo della Repubblica. Toc, toc! Repubblica, dico. Il pezzo della Repubblica è di quei pezzi che partono a pagina 1 per 3-4 righe e poi si sviluppano in una pagina intera e parlano del caso del Corea del Sud, per quale... Sì, più di 4.000 morti, mi scuso, ho detto più di 3.000, ma sono più di 4.000 morti. L'altro giorno ho detto 20 febbraio, invece era 20 marzo, dovete avere pazienza. Perché il caso della Corea del Sud è importante? Perché la Corea del Sud e l'Italia hanno iniziato insieme il contagio, però in Corea del Sud i contagi si sono fermati a 8.600 e i morti a una novantina e in Italia i contagi sono a 47.000 e i morti più di 4.000. Allora, quello che sto cercando di dire, quello che dice Repubblica, quando rompete le scatole e dite il modello italiano che fa schifo, perché abbiamo più morti di tutti, più ospedali incasinati di tutti, più contagi di tutti e meno libertà di tutti quanti gli altri, quindi è il modello più schifoso che c'è, possiamo dirlo che è il più schifoso, il più inefficace, lo possiamo dire o dobbiamo far finta che è il nostro modello più bello? Il modello coreano che è partito con noi ha avuto molti meno morti e molto meno contagiati, sapete che cosa ha fatto? Tamponi su tutti. Tamponi su tutti. E quelli che erano positivi venivano monitoriati attraverso la violazione della privacy solo per loro e le città non sono state chiuse. Quindi quello che voglio dire, quello che dice Repubblica oggi, leggetevi il pezzo di Repubblica oggi, individuate i malati contagiosi e la libertà gliela limitate, non al 99,9% della popolazione. Questo è l'implicito modello della Corea del Sud, ma noi ce la raccontiamo. Beh certo poi oggi ti leggi l'intervista di Ursula von der Leyen che spiega al Corriere della Sera che l'Italia è esempio meraviglioso. E allora è perfetto, se l'Italia è l'esempio meraviglioso, l'Italia è l'esempio meraviglioso. Questa ci dice che l'Italia è l'esempio meraviglioso, ci abbiamo più morti di tutti, ci abbiamo gli ospedali che non sanno dove trovare le persone, l'Italia è l'esempio meraviglioso. Quale profilo? Fino a ieri eravamo il dannato d'Europa e oggi diventiamo l'esempio meraviglioso. Cioè si passa da un eccesso all'altro. Io, vabbè, comunque, crediamo a lei che sia un esempio meraviglioso. Io vi invito fra sei mesi a vedere se l'esempio meraviglioso italiano avrà la stessa indulgenza. Oggi Mario Monti cosa scopre? Mario Monti, sull'apriera pagina del Corriere della Sera, scopre gli Eurobond. Cosa sono gli Eurobond? È una cosa che propose Tremonti, non Monti, dieci anni fa. Cioè sono delle obbligazioni che danno dei soldi anche all'Italia e che non sono emesse dall'Italia ma sono emesse dall'Europa a tassi bassi senza scadenza. Capite che questo tipo di obbligazione rende solidale tutta l'Europa per il problema di un singolo paese. È ovvio che il resto d'Europa non vuole questo genere di obbligazioni. E Monti oggi scopre queste obbligazioni e dice che si possono fare. Anche Ursula dice che si possono fare se si dovessero fare questi Eurobond sarebbe un grande aiuto finanziario vero all'Italia, non tutte le altre palle di cui stiamo parlando. Vedremo fra sei mesi quanti Eurobond saranno fatti e se l'Italia ce l'avrà. Per il resto sono tutte quante dichiarazioni tipo quella di Ursula, l'Italia un esempio meraviglioso. Altre notizie di giornata, straordinario Gramellini che oggi ci spiega che cambiano i rapporti, cambiano tutte le cose e ora addirittura dobbiamo essere grati ai cinesi. Cioè Gramellini ci spiega siccome ci danno le mascherine dobbiamo essere grati ai cinesi. Io non ci posso credere, io non ci posso credere di leggere sulla prima pagina del Corriere della Sera dopo che ho letto che Giavazzi e Alessina ci hanno spiegato che le nostre libertà devono essere limitate, non ci posso credere che Gramellini ci spiega che per 100.000 mascherine dobbiamo essere grati ai cinesi. È una cosa che mi fa venire altro che gli americani. Un tempo era per gli americani e adesso è per i cinesi. Fantastico. Guerini oggi ci spiega sempre sul medesimo giornale che ci servono più militari. Io sono anche d'accordo, i militari sono benvenuti sempre. Io non ho nessuna paura dei militari perché secondo me sono militari appunto. Però mi diverte il fatto che dice Guerini ma non c'è nessuna militarizzazione mi sembra sul gazzettino e sul messaggero. Ma come? Ma fino a poco tempo fa la sinistra quando beccava un militare per strada c'era sempre la militarizzazione. Oggi non c'è più. Ma comunque andiamo avanti. Boris cambia completamente idea rispetto al passato perché sta chiudendo tutta Londra e sta chiudendo tutta quanta la Gran Bretagna così come abbiamo fatto noi. Il ministro dell'economia di Boris invece dice a tutti quanti i dipendenti e gli staff inglesi vi do l'80% dello stipendio fino a 2.500 pounds. Cioè questa è l'Inghilterra. Non so quanto gli costerà ma queste sono le notizie. Chiude New York ne parla molto bene Rampini raccontando queste piazze che siamo abituati di Times Square completamente deserte bloccata tutta la Silicon Valley e oggi il Wall Street Journal fa la grande storia di Elon Musk che per una volta dice una cosa che io condividevo e cioè che farà molto peggio il panico del virus e lui se ne sta ben accorgendo perché gli hanno chiuso la fabbrica e lui ovviamente rosica giustamente perché vorrebbe lavorare. Vi segnalo Jacopo Giliberto oggi sul Sole 24 Ore molto puntuale in questo periodo il Sole 24 Ore facci un applauso del giornale perché a me piace vedere le cose concrete non le grandi pippe mentali cioè pagano il prezzo alle marchette diciamo che devono fare come tutti quanti noi i loro proprietari però poi alla fine leggi dei pezzi fatti bene quindi applauso il Sole 24 Ore oggi Jacopo Giliberto dice attenzione ragazzi toc toc ma secondo voi i lavori di manutenzione degli inceneritori posto che ancora fate in monnezza i lavori di manutenzione degli acquedotti posto che bevete l'acqua e io aggiungo i lavori di manutenzione degli ospedali delle fabbriche dell'elettricità eccetera delle cose essenziali attenzione perché rischiano nelle prossime settimane di andare blackout e vi aggiungo che oggi pezzo fantastico ovviamente di Giliberto che vi aggiungo che la chiusura del mercato di fondi qua a Roma non è un dettaglio perché ne parlano tutti i giornali soprattutto il messaggero in prima pagina fondi è il mercato ortofritticolo più importante che esiste nel centro Italia cioè quello che voglio dire a tutti quanti voi da Marziano a Roma benissimo non dobbiamo passare non dobbiamo fare il jogging per strada non dobbiamo Ferrara se ne dispiace far fare pipì al cane troppo lontano da casa ma i problemi non sono tanto questi sono che se non continuiamo a lavorare purtroppo il mio lavoro serve a nulla ma il lavoro dei manutentori di quelli che fanno gli agricoltori di quelli che portano sulle vostre tavole da mangiare delle commesse degli agroalimentari e dell'elettricità del gas della manutenzione dell'acqua queste cose non è che funzionano da sole cioè questo è quello che io dico semplicemente attenzione perché purtroppo se noi pensiamo di adottare il modello italiano che fa schifo e non il modello coreano che è l'unico che ha avuto successo cioè controllare i contagiati e fare tamponi a tutti lo scrive oggi Repubblica non io chiudiamo il paese vogliamo veramente chiudere il paese poi voglio vedere a casa i forconi quando escono fra 5-6 giorni e vedono la Raggi che fa dire non uscite di casa e lo fa da un parco che lei ha chiuso chiudono nel frattempo cambiano Netflix Amazon e Youtube che tutti quanti voi state vedendo ora tolgono diciamo la banda cioè non è più in alta definizione ma è in definizione più bassa perché ovviamente tutti quanti stanno usando la rete devo dire che se c'è una cosa positiva da dire è che in questo momento la rete in Italia sta abbastanza funzionando noi che ci parliamo sempre male diciamo che è tutto un disastro Di Vico oggi su Quelle della Sera parla dei 600 euroisti Villarosa non ti preoccupare è fichissima la manifestazione è stupenda questa manovra il sottosegretario dell'economia che mi ha detto che sono uno sciacallo perché non si può criticare la manovra Villarosa è bellissima Villarosa da Barcellona di Pozzo bellissima seconda legislatura Movimento 5 Stelle che mi dà dello sciacallo perché critico questa manovra e perché mi sono messo a criticare una cosetta che lui invece giustifica e cioè che aumentano di due anni l'accertamento per il 2015 Villarosa lo difende io no ma posso essere ancora libero di farlo Villarosa difende questa manovra oggi basta leggere su Di Vico cosa vuol dire una manovra in cui pensavano di fare il click day in cui ancora non sono sicuri gli agenti di commercio 200.000 agenti di commercio che non hanno un euro se sono dentro o fuori ma Villarosa dice che la manovra è stupenda e non si può criticare non ci sono i professionisti avvocati architetti ingegneri giornalisti che non sono tutti miliardari ci sono sotto i 40 anni che non hanno un euro Villarosa non ti preoccupare la manovra è stupenda non voglio attaccarti non voglio fare il sciacallo è bellissima questa manovra di cui mi piacerebbe vedere qualcuno in Parlamento che ne discuta con dettaglio oggi la Gelmini dice ne parleremo ma Villarosa dice chiunque attacchi questa manovra è uno sciagurato così come invece chi attaccava Bertolaso è un pazzo nel frattempo Bertolaso lo leggo oggi su Corea della Sera praticamente ha avviato l'idea di questo ospedale che potrebbe essere presento in 7-8 giorni in Lombardia l'unica cosa che si deve fare in questo paese è modello coreano e ospedali ospedali Bertolasi io più tardi vi farò vedere sul sito e ve lo farò vedere sul mio sito per quale motivo non ci sono le mascherine in Italia e il motivo è uno solo CONSIP gare pubbliche in Italia non ci sono le mascherine perché c'è gara pubblica per comprare le mascherine chiaro è l'unico motivo ma più tardi io lo faccio vedere documentato nel frattempo il che cosa è per quanto riguarda le cure pare che stia andando avanti l'idea di questo plasma che è usato da quelli come me io darò il sangue a Pavia perché voglio che loro se possa essere utile a qualcuno il mio sangue con i miei anticorpi nei confronti della mattina possa essere utile ma racconta bene Repubblica in una pagina intera che in realtà la vera cura qua è fatta dal nostro corpo perché medicine così efficaci nonostante tutte le fake news che girano che forse Borrelli vorrà metterci tutti in galera oggi non ci sono vi do appuntamento più tardi al sito di colaporo.it un grande abbraccio e buon fine settimana a tutti quanti voi reclusi nelle vostre case ciao